Ciao, sono Marta, ho 22 anni e sono una studentessa, vivo nella zona collinare. Per troppo tempo ci hanno detto che i giovani non si interessano di politica e della collettività, ma questo non è vero. Io e tanti altri abbiamo deciso di metterci in gioco, di diventare attivisti di potere al popolo, perché la campagna è il futuro.